Musica in Festa E qual è il repertorio che faranno qui a Staffolo? Ora faranno musica originale portuguesa e che fanno parte del proprio folclore. Un'altra domanda, sappiamo che già hanno visitato le Marche e Staffolo, vogliamo chiedere se gli sono piaciute le Marche e Staffolo in particolare? Ho piaciuto tanto questa regione e sono stato molto felice perché le persone sono ricevute loro tanto bene e loro chiedo grazie per tutti qui a Staffolo in particolare. E un'ultima domanda, quando si esibiranno qui a Staffolo? In quale giornate? Li possiamo vedere? Il concerto del loro si verrà no sabato, 21 e 30. Il concerto sarà no sabato, 21 e 30.